10 maggio 2023, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, piegate le vostre ginocchia in preghiera. I nemici si uniranno per perseguitare e mettere a tacere i difensori della verità. I valorosi soldati in talare berranno il calice amaro della sofferenza e il dolore sarà grande per i giusti. Io sono la vostra madre addolorata e vengo dal cielo per dirvi, non tiratevi indietro. Avanti nella difesa della verità. Il cielo è con voi. Quando sentite il peso delle prove, chiamate Gesù e non troverete le forze. Io vengo dal cielo per chiamarvi alla conversione. Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie. Grazie.